Ciao ragazzi, siamo a Montpellier, in Francia, per il FIS, è una gara da paura, quest'anno addirittura è sposata da FIA Freestyle Team, c'è un sacco di gente, la gara è in centro città, quindi spaventosa, il livello fa paura anche, ci sono i migliori rider del mondo a mio avviso, c'è Mike Spinner, Mark Webb, Dave Meere, Daniel Ders, Madalya Doris Game, ci sarà di divertirsi per la finale stasera, vediamo cosa succede. Grazie a tutti. Nelle qualificazioni ho girato abbastanza bene, ho fatto l'80% delle mie possibilità, anche perché c'era un'forma di gara che non veniva incontro alle mie aspettative, ho solo un minuto di run con la streak, quindi rischiavi proprio di compromettere la tua qualificazione sbagliando magari il primo streak, allora ho cercato di girare pulito, più fluido possibile con dei streak abbastanza potenti, sono riuscito a qualificarmi quarto davanti a Miracle Boy, Dave Meere è il mio capo, più di così non potevo chiedere assolutamente, davanti a me ci sono i tre più forti del mondo, basta, speriamo in bene. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Si tratta di un gen format, quindi quattro rider insieme e cinque minuti di tempo, quindi puoi fare praticamente tre run da tipo 40 secondi più la streak, quindi puoi assolutamente esprimere il tuo riding al meglio. Io ho un sacco di trick quest'anno da provare, nuovi, e non vedo l'ora veramente di riuscire a farli bene e chiuderli davanti a questo pubblico incredibile di Montpellier. In bocca al lupo a me stesso, anche se non so se si può dire. Raga, se abbiamo Montpellier, Fizz, sono arrivato terzo, non arrivato, ho preso il terzo posto, che è meglio dirlo. Purtroppo ho forato, però è andata bene lo stesso, ho preso la bici di un altro, di Arthur, mi ha detto prendi pure la mia bici, vai, manetta, c'è 40 terri con la bici di un altro, non male, triplo whip, windshield viper, più di così non potevo fare, volevo fare qualcosa di più, ma purtroppo non avevo la mia bici, quindi, fatto è possibile. Grazie raga. Ciao. Ciao.